mamma mia che napoli signori mamma mia chi è spalletti spalletti è un allenatore è il dio del calcio why you se noi succedono veramente quel sogno di vincere lo scudetto ma in merito che tutto del nostro mister mamma mia che partita quello del napoli 3 a 1 nel primo tempo si siamo cagati sotto ragazzi però l'importante è vincere sempre la raga adesso ci mancano 7 partite da giocare da dai forza napoli sarò con te e tu non devi mollare abbiamo un sogno nel cuore da voi donna campione vai grandi ragazzi grandi ottima prestazione complimenti a culipari guanjesus racmani insigne politano loggiano ma soprattutto l'uomo più aspettato gianoli a mia raga io che cosa io che cosa vi sto dicendo che napoli è forte in napoli è fortissimo abbiamo fatto una battita per me quanto pareggiano contro l'atalanta io ho detto ho loco questo mo i gol del 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 adesso vengono pure invece all'ottantunesimo onas c'è e ma serve da messo nel pack comunque io ci credo sempre allo scudetto grandi ragazzi noi tutti abbiamo un vero allenatore si chiama luciano spalletti grande mister grande continua così siamo con te siamo con voi mister e che cosa successe sarebbe a napoli e tutta napoli se di nuovo scudetto con questo e ti mando ora sette partite ancora molto molto lungo calma calma ora testa alla roma ma la testa alla fiorentina vabbè ragazzi io vi auguro un buon apprezzamento di serata da me emanuele è tutto bella ragazzi ciao 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 ciao